Il patolare sta urlando. Come va con i tempi? Sono circa 25 minuti a comanda. Signore, tiriamo fuori il libro? Sì. Forza, comincia tu. Va bene. Dunque, sedette davanti al frigorifero, aspettando che lui prendesse il miele e glielo versasse sul corpo. Che tipo? Abbassarono le luci. I lumbi di lei frenettero, pregustando il poi. Oh, signore. Chiese di accarezzargli il capolavoro. Mi sembra di essere un provino per 50 sfumature di Richmond. Esatto, di Richmond. Pescegatto a brustoli. Gli altri piatti arrivano subito. Oh, grazie. Siamo in sei, stiamo aspettando da mezz'ora e ci arriva solo un pescegatto. E ti vedi? Oh, sì. Gamba. Sì. Sì.